Ciao, io sono Zia Sergio e benvenuto nella mia cameretta. Partiamo con i quadri. Allora, questa è Sant'Andrea, praticamente protettore del paese di monotaggi superiori. Protettore sia di monotaggi superiori sia di monotaggi marini. Questa è la Madonna. E quindi la Madonna mi protegge e mi manda avanti. Quelle sono le spoglie di Sant'Andrea. Cosa sono le? Le spoglie. Che sarebbero le cose di Sant'Andrea. Adesso passiamo a... Non lo so chi è. Una Madonna mi pare. Una Madonna dell'Ultis. Non lo so. Una Madonna quella? Una Madonna. Cos'è questa? Questa sono io. Questa sono io da quando ero grasso. Portavo 140 tonnellate. Adesso quanto pesi? Adesso peso 45-45 kg. Allora, iniziamo nelle fotografie. Quello è Sergio. Sergio quando ero grasso. Qui era a mare, a mare, a monotaraci. Quando ancora la spiaggia esisteva. Adesso non esiste la spiaggia. Adesso non esiste più. Invece questo sono io piccolo. Quando ero piccolo, piccolo, piccolo. Allora, questi sono i cennolari, i miei cennolari, i miei cennolari, i miei cennolari. Poi? Quella è un'altra Madonna. Questa è la Madonna. È una Madonna. Come mai si la Madonna? Perché la Madonna protegge. Vediamo il quadro di Patre Pio. Questo da dove viene? Questo me l'ha fatto un artista di Patre Pio. Questo è Patre Pio che è mucciato e quindi non ho avuto la possibilità per poterlo impiccicare. Passiamo alle quattro. Allora, questo è il kickbox. Facevo karate e kickbox. Ok. Lì? Qui era un cinturoniero primo danno di karate. Ok. Di karate. Questo è... non lo so che cos'è. Di medicine, vero? Sì, quelle sono miei. Sono del diabeta, del... Quindi sono? Delle medicine che devo prendere di mattina. Ogni tanto... Questa è una finestra, ogni tanto viene una signora e mi parla. E mi parla di fuori. Da lì? Da lì. Ed io devo rispondere. Come mai devi? E devo rispondere se no si sa rabbia. E dici che se no non la buona notte chi me la dà? Non andiamo d'accordo. La televisione è stutata. È stutata e quindi la devo accendere quando ho bisogno di televisione. Questa è una videocassetta di... Come si chiama? Non mi ricordo. Questa è la cassetta di Serpico. Questo artore è di nero e mi piace tanto. Eh? Come ci sono? Non sa lei? No. Serpico. Serpico. Queste sono le mie giubbate. Di giorno, quando vado a camminare. Ok. Di notte? Di notte uso questi. Ok. Allora, in questo c'è il corso di corporetti, le lanzuole per l'elettro a tre spaziose. Qui abbiamo le magliette, qui abbiamo i pantaloni, qui abbiamo le cose di quando faccio la doccia. Ok. E qui abbiamo le tute. Ok. Nell'altro armadio? Nell'altro armadio è troppo confucionato. Qui c'è il mio armadio del diavolo. Del diavolo? Del diavolo. Perché? Perché è del diavolo? Perché è confucionato, no? Solo così, così, così. Fa un culo. Spero che vi è piaciuto questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao. Ehi, 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 ehi.